Nei guai sette minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il gruppetto di amici è stato denunciato dai carabinieri della compagna di Sala Consilina, coordinati dal tenente Davide Acquaviva, per danneggiamento aggravato di edificio pubblico. Secondo quanto appreso dai militari della stazione carabinieri di Sala Consilina, nella notte sette persone, parzialmente travisate dopo aver diverto la porta d'ingresso, si sono introdotti nella palestra dell'Istituto Scolastico Marconi di Atena Lucana. Una volta dentro, i sette, secondo quanto riportato dai carabinieri, hanno compiuto atti vandalici, danneggiato ed imbrattato con la schiuma di alcuni estintori, i muri, gli arredi e le attrezzature sportive, per poi dileguarsi. I danni provocati ammontano a circa 3.000 euro. I carabinieri, attraverso alcune testimonianze e grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza posti nei pressi dell'Istituto, sono riusciti a ricostruire il percorso dei ragazzi che avevano raggiunto la palestra e compiuto il gesto vandalico. I minori sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria per i minorenni di potenza.